Ascolto! Che succede? Ascolto! Affermativo! Ascolto! Che succede? Arriviamo! Ascolto! Sì, arriviamo! Considero lo fatto! Che succede? Arriviamo! Ascolto! Arriviamo! Ascolto, arriviamo! Arriviamo! Fatto! D'accordo! Arrivo! Sì! Ascolto! Ci sono! Arrivo! Che succede? Che succede? Ci sono! Arrivo! Andiamo! Ascolto! Considera lo fatto! Ascolto! Ascolto! Arrivo! Fatto! Che succede? Subito, signore! Subito! Che succede? Ascolto! Arrivo! Fatto! Ascolto! Subito! Subito signore! Subito signore! Sì! Arrivo! Sì! Arrivo! Andiamo! Ascolti! Sì? Ascolto! Considera l'ho fatto! Considera l'ho fatto! Arriviamo! Che succede? Considera l'ho fatto! Subito, signore! Che succede? Arrivo! Arrivo! Arriviamo! Ascolto! Considera l'ho fatto! Considera l'ho fatto! Considera l'ho fatto! Subito, signore. Ascolto. Arrivo. Arriviamo. Arriviamo. Sì. Che succede? Che succede? Ce l'ho. Arrivo. Passo. Arriviamo. Attenzione! È stato denunciato un incendio, probabilmente causato da un mozzicone gettato. Estinguilo quanto prima. Ascolto. 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 Arriviamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Subito, signore. Arrivo. Sì? Arriviamo. Arriviamo. Fatto. Che succede? Arriviamo. Arriviamo. Che succede? Sì? D'accordo. Arriviamo. Che succede? Ricevuto. Considera l'ho fatto. Arrivo. Arrivo. Che succede? Che succede? Che succede? Che succede? Che succede? Sì? Che succede? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.